Io voglio dirvi una cosa sola, siccome lei ha detto vicino a me questa volta questa frase, ma io sono chatti perché non sono buono, sono male a me, ditemi le voi donne che sono bene o sono buono. Allora, io voglio dire una cosa, lei ha detto che non mi sarei mai aspettato di stare un tipo come te. Io ora ti voglio dire una cosa, che è triste, e ora che ti trovi vicino a me, perché ti trovi vicino a me? Perché mi hai risponere sincero, tu dici che non ti... Il carattere che hai a tu, sicuramente, sei al contrario di me, lo devo dire perché è al contrario di me. Perché io quello che dico, dico sempre la verità, io sono un po' estroverso su queste cose qui. Vabbè, dico la verità, vabbè, dico sono estroverso, ma dico, guarda lì, Non pare che cosa, dici tutto quando hai una pezza a capo, pure la gente non è una pezza a capo, non è una pezza a capo, ma guarda lì, tu che sei al contrario di me, che hai detto, sei una ragazza che non potresti stare, non è che qua, non ti manca niente, e la vita non ti manca niente, no? C'è tutto dalla vita, quello che vuoi ringraziare a te, un giovane, forse l'altro, te lo sai prendere, te lo sai prendere, ok? Ora tu, Caterina, uno come me, che non ti manca niente, ma dico la verità, io dico la verità, non è che dico le bugie. No, Caterina, guarda le camere e mi risponde, sinceramente, però. No, ma tu questo non... Non lo metti, ti giuro, davanti a te me lo tengo per me, però... Non lo metti, 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 ok, uno come me, che è lì, tu perché ti hai messo, no, che ti hai frequentato, che dici, mi hai frequentato, non mi hai distruggato, come mai tu, contrario, estroversa da me, diversa da me, stacca con me vicino a me, per me le rispondere, sinceramente, da stare con me, per sempre, così ci lasciamo in giro amici. Devo dire la verità? Io proprio, per me... Perché scopo bene! No, Caterina, no, Caterina, perché? 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 No, Caterina, non c'è, solo per questo, mi dici, solo perché scopo bene e basta, e poi odora. E lui mi dici, perché non ho freddo, no, perché scopo bene e basta, solo per questo? E poi odora. E se non coccolone? Sì. E lui mi dici, perché non ho freddo, no, perché scopo... Ma Dio, ricordatevi una cosa, non c'è bisogno di scopare bene, perché, guardate, basta poco, perché, guardate, è una donna che non c'è manca niente, poi c'è una coppia, figli e ma suami, qui lo sapete qua, c'è una coppia, e mi diceva, che è il paparero, ma può regnare i sordi, ma può dare quello che ha pulito, e lei è una coppia, che è una coppia, che è una coppia, ma regna i sordi, ma qui, ma qui c'è bisogno di farlo, però non è scopo bene, non è... stai dicendo una bugia, non è lei, è il vino di Puglia che... Non è lei quella che ha detto, ma sapete scopo bene, ma è il vino di Puglia che è finito. Puglia dice, manca la fede, la donna non si fa, e che le dice manca amore a me, ciao, vai giù. Faccio bene, non mi sei bella di me, c'è la tua cilopatia. Buon bovina a me, mi l'ha di otto un butteggio, ciao. Ciao, vai giù, mi l'ha di otto un butteggio. Lai!